Quanto vorrei che la Chiesa di Roma si manifestasse sempre più madre, attenta e premurosa verso i deboli. Tutti abbiamo debolezze, tutti ne abbiamo le proprie. Quanto vorrei che le comunità parrocchiali in preghiera all'ingresso di un povero in Chiesa si inginocchiassero in venerazione allo stesso modo come quando entra il Signore. Quanto vorrei questo. Che si toccasse la carne del Cristo presente nei bisognosi di questa città. Con il vostro lavoro, il teatro di questa sera, sono sicuro voi contribuirete a far crescere tali sentimenti. Grazie.